La Chiesetta di San Michele La Chiesetta di San Michele Il precedimento è questo. Un contadino che ormai dà tempo in memoria a questo compito sale sul banchetto e raccoglie le offerte delle famiglie contadine che partecipano all'asta. Chi punta di più vince. Quest'anno ha vinto la famiglia d'Aloiso con una puntata di 450 euro. E sono stati loro a portare la spalla alla statua fino al ponte di Fucia Loisa prima e verso zona Orno dopo per benedire i campi e le saline accompagnati da Anzene e Signore che cantavano un lindo composto da parole inventate al momento. Il nostro Signore Grazie. Grazie.